SIGLA 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 Tre poco Weekend Trend SIGLA SIGLA Radio Esmeralda con James Barbadoro Grazie a tutti. 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 Se intitoli un disco de pace, la pace è un motivo, ci sarà sicuramente, questo è uno dei dischi d'elettronica secondo me più rilassanti degli ultimi tempi e la settimana prossima, il 21 luglio, uscirà l'album Guiding End che contiene questa traccia fatta dal produttore di Los Angeles Ford, premessa, preludio di una nuova puntata, la numero 90, c'è Weekend Trend. Here we go! su Esmeralda e in tutte le altre modalità d'ascolto. Come va? E la musica di questa puntata la dedichiamo assolutamente a voi. Iniziamo con il terzo estratto dall'album di debutto dei K3 Minè, dopo aver sentito Forever e Rebuke. Ora sentiamo una traccia bella ritmata che unisce elettronica, afro e hip hop su Weekend Trend. Sassop. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti The Beat Don't Bang, Sassop, uno degli ultimi estratti dall'album dei K-Tramine, un LP fatto esclusivamente per la stagione estiva, ne abbiamo già parlato fin troppo e noi comunque cerchiamo di sfruttarlo visto che ci sono un sacco di belle tracce all'interno. Ancora benvenuti nel nostro fine settimana che ora vedi in arrivo pure il nuovo di Kota The Friend, l'artista hip hop jazz di Brooklyn, torna con un singolo fatto insieme al cantante inglese Sam Henshaw che avevamo proposto in passato con vari singoli da solista se non sbaglio. E devo dire che in questa traccia R&B estiva ci sta veramente alla grande la sua voce su Weekend Trend, Kota The Friend featuring Sam Henshaw con Barcelona. Grazie a tutti 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 album album di Grazie a tutti 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 Devo dire Grazie a tutti 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 e sarà il con Domino Grazie a tutti 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 Grazie a tutti